Io l'ho ripreso tante volte. Sì, è un monumento che è... L'ingresso dell'area di Castelro, vicino alla porta dell'Ombria. Luce abbastanza? Sì, insomma. È rappresentata la figura di Nareosi, un momento creativo, che scrive. E qui sopra, questo Castello che è quasi una quinta, ci sono le due figure. Quello del Cavaliere e quello della Donzella. Quasi così rendono forma, veramente. Vedete il poeta, vedete lo scrittore. L'impresa d'Anci, no? Quando è stato fatto questo? Da quanto tempo è che è lì? È stata inaugurata l'anno scorso. Ah, ecco perché appunto è già un po' che non ci va. Il primo elemento di vita, quindi una vita che scusa su acqua sull'area. Sì, è un pozzettino. È un pozzettino per la... Questo è sul Don Pichotte. Il Don Pichotte è rivisitato, messo invece che sotto un cavallo, sotto una bicicletta di quelle antiche. Quindi c'è questa roglia un po'. E poi c'è questa saccia pancia che si nasconde dietro la... Sotto per la... La meste del Don Pichotte. Guarda... Un po' che è un bel coscio lunga, eh? attacchi vertiginosi può pensare l'uomo, la donna e quindi tutto si mantiene l'equilibrio ecco, c'è questo movimento sì è bello questa idea grazie